il duomo in lontananza che ci osserva ma siamo abbastanza lontani dal duomo buonasera beppe maroni prima di cominciare però diamo un piccolissimo aggiornamento su un caso di cui siamo occupati la settimana scorsa mercoledì scorso ci siamo occupati del circolo di chiani che a rischio chiusura definitiva ci ha spiegato insomma ci hanno spiegato la motivazione ci sono una situazione che va avanti da anni e c'è il rischio che chiuda ci siamo informati con il comune di arezzo e in particolare l'assessore nisini ci ha detto che stanno lavorando con gli uffici che tra qualche giorno potrebbero darci qualche novità speriamo positiva quindi può darsi che ci sia qualche speranza per questo ci speriamo quindi però che sono altrimenti anche lì è un gruppo delle relazioni che va a finire e quindi un punto dove si trova la gente che va a chiudere questo non è non è diciamo di per niente positivo quindi insomma e le cose che poi seguiamo come va che ti ha detto iniziata l'assemblea venerdì scorso un po calda segui nego su bianco venerdì alle 21 perché ci sarà con noi l'assessore tanti alla quale bisogna dare atto di aver avuto l'unica persona ha avuto un coraggio è andato ad affrontare tutta la popolazione tutte le mamme di matugnano da sola quindi complimenti tosta complimenti facciamogli complimenti perché ha avuto un coraggio che non ha avuto qualcun altro di accompagnarla non c'era nel sindaco nel vice sindaco comunque era fuori l'italia lo sapevamo vice sindaco e altre cose da fare comunque sarà con noi venerdì alle 21 e ci interessiamo poi cerchiamo anche di chiedere conto al comune di quello che appunto dei problemi di cui vi parliamo e stiamo cercando anche di parlare con il incontrare anche il l'assessore all'ambiente sacchetti poi cerchiamo non è facile per sapere anche della asl poi con chi parlare e se la asl qui può fare qualcosa è il terzo caso che troviamo in pochi giorni di diciamo scarichi non regolari qui dove siamo questa era un'ex cava se questo era un'ex cava completamente ripristinata vedete adesso hanno fatto dei campi e a lato di questa ex cava scorre questo fosso di putridume come al solito sicuramente sono scarichi civili che non sono depurati come si deve vengono qui a cielo aperto e vanno in questo senso verso il fiume quindi vanno verso il castro queste e quindi li troveremo nel castro a inquinarla ancora di più tra l'altro vediamo anche dei rifiuti in mezzo che vengono trascinati e qui chissà da dove viene da qualche altra lottizzazione questo avendo qualche lottizzazione qua e sicuramente qua ci sono paesi patrignone qualche lottizzazione nuovo che è stata fatta ma sicuramente venga patrignone questo perché l'acqua è tanta quindi vedo che scorre molto quindi è sicuramente veramente io sono abbastanza sconcertato che c'è chi uno fa delle abitazioni eccetera quindi farà delle tubature delle cose e poi non si preoccupa di dove vanno a finire questi scarichi no perché i fognoni non sono dappertutto raccolta delle acque luride e quindi di conseguenza cosa si dà si dà queste nuove lottizzazioni l'obbligo di fare i depuratori e poi nessuno li controlla e questi sono risultati perché i depuratori non funzionano e l'acqua viene via così come senza essere depurata e inquina tutto il territorio e nessuno qui interviene qui dovrebbe essere all'AS che interviene andare a verificare da dove viene quest'acqua e far ripristinare i depuratori così come si deve perché altrimenti se no così facendo con tutte le tesorie che sono state fatte fra poco inquiniamo tutto perché abbiamo trovato quattro casi tra quelli di quest'estate questo è il terzo in questi giorni che è sempre la solita zona quindi vuol dire che questa zona qui non ha fognoni ha solo questi mini depuratori e questo sta inquinando completamente tutta questa zona che tanto già decantata come inquinata dalle cave di questo non se ne preoccupa no questo non si inquinamento che fai te cioè te se fossi uno di quelli che butta l'acqua e di quello che fai te va bene quello che fanno gli altri invece esatto le cave inquinano perché negli anni passati effettivamente anche il comune d'Arezzo ha accettato indiscriminatamente rifiuti sulle cave e e sì logicamente si si ralbera perché inquinano le falde e così via questi che le falde le inquinano nessuno dice niente forse perché non ci interessa dirlo lo so forse però noi non ci interessa e lo diciamo uguale vedi che c'è degli pneumatici vedi vediamo ci sono poi dei rifiuti che vengono trascinati bottiglie e poi questi rifiuti ora il proprietario qui di questo terreno ha anche scavato ha ripulito un po' per fortuna per fortuna ripristinato se no qui vediamo che ci sono dei rifiuti anche qua vedi guarda la vedi tutta plastica eccetera purtroppo insomma cercheremo di capire di fare interessare il comune che poi magari sarà il comune a chiamare l'asle non so come la procedura tanto qui sono tutti i siti che abbiamo fatto ultimamente sono molto vicini e quindi basta come siamo venuti noi fare un sopra luogo e intervenire da dove viene quest'acqua che sicuramente sono tanto queste tutte nuove lottizzazioni dall'area di quagata più o meno esatto ci vediamo ciao